buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale ho deciso di portarvi questo nuovo format che vedendolo fare da altri youtuber mi ha un po ispirato a portarvelo anche voi sarà una cosa molto impegnativa per me quindi vi consiglio di seguirla ogni settimana anzi ogni turno di campionato perché ci saranno gli infrasettimanali ma ci saranno anche le pause della nazionale porterò le nostre fantasquadre sul canale allora intanto giornate veramente lunghe tutte uguali mi spacco le balle a casa quindi ho tante cose da fare e ho anche il tempo per farle quindi ragazzi questo nuovo format vi dico intanto so già che direte è ma perché come primo video porti la giornata 4 perché avevamo fatto l'asta dopo la terza giornata abbiamo aspettato la fine del calcio mercato le prime tre giornate di campionato non si sono potute valutare perché ovviamente non avevamo ancora le rose e l'accidente a me perché avrà fatto veramente il culo a tutti e quindi ragazzi si parte dalla quattro che sarà primo video sarà fino alla trentottesima le squadre sono sei prima di tutti le squadre ragazzi vi consiglio di guardare questo video perché poi se guardate i prossimi episodi almeno con questo capite come ho intenzione di far svolgere questa serie che durerà fino a fine campionato poi chissà se mai l'anno prossimo di riportarla le squadre sono sei quindi le partite purtroppo si ripeteranno durante tutto il campionato dovrebbero essere più o meno mi sembra tre turni andate ritorno le squadre appunto sono la mia più altre cinque di cinque miei amici la mia si chiama ac salute nome e lasciamo perdere e nella serie di fifa userò la mia squadra vero il milan chi ho come top player o lukaku latano martinez vivrà in difesa il papu gomez donna rumma in porta e poi compagna varia non vi spoilerò più di tanto perché poi dovrete vedere il video la seconda squadra si chiama aston birra del mio amico simone chi ha come bomber acquagliarella e caputo con milinkovic savic vidalla centrocampo con bastoni mi pare faraoni e altra gente in difesa di cui adesso non ricordo il nome e andanovic in porta lui userà l'inter quindi sarà la sorta di derby di milano la terza squadra si chiama blaugragna sarà la juventus ovvero il piemonte calcio e come bomber a zlatan a correa a dibala anche giocatori illustri come kuruseschi come luis alberto dietro vanta una retroguardia con chiellini tomiasu e in porta ospina e meretti due portieri del napoli la quarta squadra si chiama fc roma la squadra diciamo quella penultima rosa perché comunque si è tenuto tanti crediti per poi poterci fare il culo all'asse di riparazione lui comunque essendo la seconda rosa più scarsa però comunque vanta mertens davanti vanta duvan zapata paolo a pezzi in porta e a centrocampo personaggi come vere tu e non mi ricordo più quinta squadra lo squarta praga del mio amico giovanni milanista abbiamo dato il nizza perché rosso nero insomma lui ha una bella 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 squadra lui vanta in porta scesni a difesa al culibali bonucci e in attacco a immobile e cristiano ronaldo quindi insomma trovarlo contro non sarà molto comodo la stessa squadra sono i raccattati il nostro amico federico che purtroppo si è oggetto dopo quindi si è preso gli scarti comunque c'è lasagna c'ha una ingolana c'ha cranio in porta riesce comunque anche con qua me a arrangiarsi come funziona ragazzi o le formazioni ovviamente il video sarà registrato dopo l'ultima partita della giornata perché ovviamente devo vedere chi è sceso in campo e chi no sarà fatta con i giocatori che su fifa i giocatori titolari saranno quelli che sono entrati quindi appunto 3 4 3 magari non è entrato un centrocampista è entrata la prima riserva su fifa sarà quella che sarà inserita tutto così e poi i sostituti saranno altri giocatori che nella realtà sono entrati quindi insomma le formazioni bene o male valeranno da settimana in settimana quello su fifa è un campionato a sé quindi ci sarà una classifica dei marcatori e i risultati e le classifiche non ho niente a che vedere con fatta carcereale con fatta carcereale non sono che vedere le formazioni gli incontri e appunto basta le formazioni gli incontri detto questo ragazzi io penso di avervi sottratto anche troppo tempo dall'intro penso che abbiate già schippato tanto guardate appunto il video ci sono le prime due partite anzi ne approfitto per dirvi che sono sei squadre sono tre incontri a giornata ma questa volta chi è che mi rompe le palle sono due perché lo squarta praga si è dimenticato di inserire la formazione quindi non c'è sconfitta al tavolino perché le leghe fantacalcio non mi ha avuto dalla sconfitta al tavolino c'è stato uno 0 a 0 perché anche l'altra squadra non aveva messo le riserve e quindi ho deciso di schippare la partita fare uno a uno come non disputata c'è un punto a testa e fine per questo ragazzi per questo format ci vediamo la prossima settimana adesso andrò a commentare le partite e noi ci vediamo la prossima settimana come prima partita ad anfield va in scena la mia squadra contro i blaugragna ac salute contro blaugragna ovvero alias milan juventus adesso vi farà vedere insomma le formazioni saranno partite di champions league ho deciso di di giocare appunto le simulazioni a partite saranno faze al giorno di champions league anche perché è l'unica modalità in cui ha messo il pareggio perché a volte simulando magari dal calcio d'inizio normale tende a far finire le partite in pareggio per così poi magari andare a supplementare i vigori a mia formazione ecco lukaku ataro martinez perisic che si ben naser che è entrato a posto di froeler ternandez romagnoli devrai e stracoscia che l'ho messo a posto di una roma e il capitano deve essere mi sembra quello sia palomino se non vado errato comunque poi ci sarà la grafica a spiegarci le formazioni ecco qua zlatan corea e quello mi sembra sia kuluseski se non vado errato anche gli stadi ragazzi non giocheremo mai nei sali di casa ecco qua la nostra formazione intanto poi vi specco quello che volevo dire panarumma godin casego gomez osimen dimisite pandev in panchina stracoscia nandes romagnoli devrai palomino che si ben naser perisic liberi lukaku e martinez i miei titolari ho finito i fantamilioni per fare questa squadra per quanto riguarda invece blaugragna ragazzi il mio amico cristo e io mentino trovate il suo video nel mio canale che venne buttato in piscina ragazzi veramente andatevelo a vedere andatevelo a vedere ragazzi perché qualcosa veramente di straordinario appena ci fa vedere la formazione della blaugragna magari gentilmente eccola qui tanto vi leggo i panchinari poi dopo andrò a leggere i titolari i panchinari sono artur fabian gaston aminez yang brahim acerbi e lammerz titolari ospina kolarov spinazzola tomiasu centrocampo malinoschi luisa alberto pellegrini kruzeski davanti corea zlatan e ivicic di bala fuori inizia qua milan contro anzi a ci salute contro blaugragna subito al quinto minuto questo cross ospina c'è senza problemi minuto 15 riberi l'apparento lukaku si gira di sinistro e batte ospina mettendo dentro il gol dell'uno a zero per la mia squadra l'ac salute ogni volta che ho pronunci ragazzi mi viene da ridere mi viene l'inter mette dentro e batte appunto portiere ex arsena ora in forza al napoli partita che insomma subito viene sbloccata veramente dopo dopo poco gioco libero leggenda 10 minuti a tempo così siamo contenti tutti almeno c'è tempo per segnare e recuperare segna lukaku al quindicesimo minuto minuto 26 lukaku dentro palomino di sinistro piuttosto telefonato ospina non combi di certo miracolo per salvare la palla minuto 30 pala dentro per perisic che in sostanza da solo sfrutta il buco difensivo ospina tocca ma non basta minuto 30 2 a 0 per la c salute segna perisic ragazzi due giocatori dell'inter e qua veramente buco assurdo di tomiasu si è lui è esattamente di tomiasu tra l'altro secondo gol che ospina riesce a toccare il pallone ma il tiro è troppo forte e si infila alle sue spalle vi dicevo prima degli stadi gli stadi gioco tutti gioco cerco di giocare tutti gli stadi per non essere ripetitivo e sono tutti in ordine alfabetico partita per partita quindi le partite vedete uno stato diverso fino a fine ciclo poi si ricomincia milan fa 2 a 0 al minuto 30 anzi milan la mia squadra a c salute minuto 37 sinistro di luisa alberto tocca di frai con la schiena e la palla finisce in rete 2 a 1 segna i blaugragna con luisa alberto potrebbe essere anche passato come autogol ma in realtà il tiro di luisa alberto era già indirizzato verso la porta quindi viene tranquillamente combattato il gol a favore del centrocampista della lazio tocca devrai con la schiena tra l'altro batte il portiere che è il suo compagno di squadra perché il portiere è Stracoscia ho preferito mettere lui a Donnarumma accidenti a me perché Donnarumma ha preso un gol dall'inter e Stracoscia ne ha presi 3 dalla Sampdoria tornare indietro magari a me che so Donnarumma tra l'altro 35 minuti già 2 a 1 il risultato partita che promette a questo punto assai bene si va avanti minuto 42 questo deve essere Malinoski che va a cercare questo cross veramente utopico non ci può arrivare nessuno appunto fa mea culpa minuto 46 in sostanza cross spina e minuto ancora 47 questo filtrante lukaku prova a battere a rete ma c'è pronto l'intervento di kolarov rimessa laterale che va a battere riberi perché si perisic ancora dentro per lukaku basta solo battere a rete questa volta ragazzi spina non si fa sorprendere blocca e l'arbitro manda dopo tre minuti di recupero le squadre al riposo partita molto molto attiva molto accesa che appunto manda la mia squadra dopo 45 minuti in vantaggio di 2 gol a 1 sui blaugragna ragazzi una ripresa in minuto 60 un quarto gol ad niente lukaku destro o spina ma a me lago ragazzi spina sta comunque facendo una buonissima partita nonostante avesse potuto fare un pochino di più sui gol palla che va in calcio d'angolo dovrebbe esserci il calcio d'angolo perché ho fatto già il taglio della partita invece no minuto 68 perisic progressione mette dentro per lukaku o spina si allunga e evita l'arbitro da rete minuto 71 caccia di punizione insomma che va a battere ibrahimovic che ho sbagliato dagli 7 per lato 11 a kolorov ho già cambiato tutto va ibrahimovic dentro al cross corea stacca pinato di tutti e fa 2 a 2 ragazzi inaspettatissimo perché dopo il pareggio di braugragna la mia ac salute aveva tipo dominato su ogni parte del campo ma invece ragazzi batte a rete e fa appunto 2 a 2 l'attaccante anche lui della Lazio quindi due gol dei giocatori della Lazio due gol al portiere della Lazio che è stracoscia tra l'altro ragazzi vi vi dico che anche quando prenderò FIFA 20 non continuerò questa serie su FIFA 20 perché ragazzi ho dovuto veramente scombussolare tutte le rose non voglio scombussolare quelle di 21 dove avrò da fare sicuramente cose più serie segna correa al minuto 71 partita rimessa in discussione dopo il 2 a 0 della C salute minuto 75 Lukaku di sinistro ancora a spina ragazzi veramente sta parando il tutto non ha fatto ancora parata questa faccia riperì Gomez dentro Lukaku davanti a spina questa volta sotto le gambe fa 3 a 2 la partita sembrava destinarsi verso il pareggio e invece Romelu Lukaku segna ancora e fa 3 a 2 minuto 87 riporta la mia C salute in vantaggio e fa anche si rende per il momento il capo canoniere della Lega della Lega Lega chiamata Cristo McBacon tra l'altro ragazzi per chi è nella zona da dove vengo io se potete venire a questo fantacalcio prossimo anno ragazzi fatecelo sapere perché ci piacerebbe fare un fantacalcio molto più molto più aperto vogliamo arrivare anche a una decina di squadra 87 partita che si fa in discesa per la mia C salute che poi termina dopo 3 minuti e 29 secondi di recupero termina appunto 3 a 2 dovrebbe dare lo score finale finale buona partita ovviamente Lukaku dovrebbe dare lo score finale comunque a memoria Lukaku Perisic Luis Alberto Correa Lukaku eccolo qui doppietta di attaccante l'Inter ragazzi che io la seconda la quinta giornata quindi la seconda nostra l'ho lasciato in panchina contro il Genoa sono veramente una soffa di informazioni seconda partita Arena of Schalke FC Roma contro Laston Birra ci tengo a ribadirvi che i raccattati che sarebbe la terza formazione che avrebbe potuto affrontare lo Squarta Praga non giocheranno perché lo Squarta Praga non ha inserito la formazione avrei potuto comunque me fare qualcosa però non sarebbe stato valido ecco quindi ragazzi bisogna giocare queste due partite come primo episodio e poi quando abbiamo scritto ragazzi che ti inseris la formazione dalle prossime giornate le partite saranno tre quindi il video sarà ancora più lungo poi dobbiamo tenere pure conto che non ci sarà l'intro che ho fatto in questo video a primo episodio ragazzi vede bene un pochino d'acqua perché mi sto veramente seccando la gola a forza di parlare ininterrottamente adesso leggerò le formazioni queste allora ragazzi l'allenatore insomma il ragazzo che c'è la squadra della stombirra essendo la sua prima asta ha puntato molto più dietro che davanti però vedrete perché tanto l'FC Roma no AS Roma FC Roma Silvestri Metters Politano D'Ambrosio Zattepor Zappacosta Zappata come riserve Mirante Caldirola Ibaglitz Derun per l'assenza dell'alternativa in difesa Pulca Barrella Veritud Soriano Gio Pedro Zecco e Belotti davanti Derun in difesa appunto perché aveva finito i difensori quindi ho messo primo centrocampista e vedete che la prossima giornata di campionato c'è una sorpresa della mia squadra quindi continuate a seguire foto di gruppo canzone tra l'altro di Passi Maestro non seguo quel genere però conosco ecco qua potete già vedere Akhimi nella sua casacca anche Vidal nella sua casacca originale quando con calma ci vuole fare le informazioni della Stombirra eccole qui prima leggo ormai mi sono staccato per dirlo i panchinari che sono Zirko Bonaviatura Mancini Chiesa Farona Faraoni Brozovic Simeone Titori Andanovic Akhimi Toroi Gosens centrocampo Pasalec Milinkovic Savic Eriksen Vidal davanti Quagliarella Caputo e Barro si parte il primo padone toccato dall'FC Roma minuto 2 appunto subito pala indietro ci prova Barella con questo destro ad Andanovic un po' paradosso Barella nella Roma che gioca contro l'Inter però ragazzi si tratta appunto di fantasquadre se no sarebbero squadre e basta destro appunto di Barella Andanovic mette in calcio d'angolo ci farà vedere il calcio d'angolo si lo va a battere Roberto Soliano giocatore del Bologna crossa al centro qua sinistro di Veretù ancora Samir Andanovic FC Roma che parte in quarta ma non riesce ancora a trovare il gol minuto 9 Milinkovic Savic dentro per Caputo che scheggia il palo alla destra di Mirante ragazzi sarebbe il top player appunto di questa squadra insomma se l'è pagato 90 milioni cifra che io sinceramente non avrei mai sborsato per un giocatore così a dire la verità però peraltro ha speso tipo 60 per Achimi pala dentro di Pasaric verso Milinkovic Savic e Mirante c'è poi la difesa dell'FC Roma praticamente in una confusione tutta una riesce a spazzare poi minuto 32 questo destro di Vidal che finisce fuori molto ininfluente per la porta difesa dall'ex portiere del Parma tra l'altro Vidal con la casacca della sua squadra pensavo di aver fatto il taglio degli alites molto lentamente invece sono molto veloci qua Joe Pedro scheggia la traversa ragazzi da solo davanti Nandanovic poteva veramente fare quello che voleva poteva anche avanzare invece tira e scheggia appunto la traversa pala dentro per Milinkovic Savic a minuto 43 quartatresimo Mirante esce e blocca 44 caputo sinistro ancora Mirante ragazzi che sta facendo appunto miracoli Mirante miracoli e adesso dovrebbe esserci la fine appunto del primo tempo Gossens per Ericsson finisce la prima posizione di gioco che vede appunto le due squadre in pareggio 0 a 0 partita movimentosa anche questa ma sicuramente un po' meno divertente rispetto alla C salute contro Blaugragna tra l'altro ragazzi vi dico già che ci sarà il derby a Stombir a C salute la prossima settimana Minkovic Savic Quagliarella si gira minuto 58 barra 59 palla che vince fuori minuto 67 Sino Ericsson dentro Quagliarella tocca Mirante e la palla finisce in rete dopo 66 minuti la partita si sblocca ed è Fabio Quagliarella a sbloccarla tra l'altro due gol miei nella mia squadra più questo sono tre gol dove il portere tocca e la palla poi entra non so se è un bug non so cosa sia comunque ragazzi il fatto sta che la Stombir è in vantaggio di 1-0 al minuto 66 con quale esultanza di Fabio Quagliarella che tra l'altro ragazzi sta facendo anche veramente un ottimo campionato un gol vabbè un gol e un guai facendo così vabbè normale si riparte ragazzi al 67 con 1-0 per la Stombir minuto 76 ericsson va al cross Quagliarella toloi mette fuori Quagliarella destro palla rimane lì mirante battuto caputo fa il gol del 2-0 più o meno 9-10 minuti dopo il primo gol di Quagliarella non posso neanche dire pasticce da difesa perché insomma la palla rimane lì caputo tenuto in gioco da numero 22 che dovrebbe essere non ho ben capito chi comunque ragazzi minante a terra porta sguarnita caputo mette dentro una girata e fa gol del 2-0 appunto il bomber pagato 90 milioni 90 fanta milioni tra l'altro ragazzi ho messo questa situazione perché era un soliano che teneva in gioco caputo ecco entra Faraoni per l'aston birra minuto 86 palla dentro almanovic tranquillamente riesce a prenderla si riparte caputo caputo palla dentro Faraoni sinistro 3-0 al minuto 90 caputo un gol e un assist ragazzi insomma mai da sottovalutare come giocatore entra appunto avevo messo la situazione perché per far vedere che comunque è entrato in campo mi sembra assumo ragazzi gol del difensore ma anche su FIFA fanno gol del difensore ogni tanto si spinge avanti caputo sinistro e poi sinistro di Faraoni potente ma non così impossibile da realizzare fa 3-0 e chiude veramente in maniera definitiva la partita ora vediamo ci sono altre azioni tanto ragazzi sembra come si chiama quello di tu per papirus adesso mi è tantissimo dopo 3 minuti e 24 di recupero finisce qua la partita tra FC Roma e Aston Birra partita più che altro è un milico per almeno 50-60 minuti dopodiché Aston Birra prende il largo e vince la partita ovviamente un uomo partita caputo per tentativi un gol e un assisto veramente spaziale l'attaccante del sassuolo noi ci vediamo la prossima settimana con anzi la prossima settimana ma perché oggi c'è uno di oggi c'è Milano a Roma qui domani escono i voti domani posso già registrare i video quindi prossima settimana no ma veramente a breve vi porterò la quinta giornata di Serie A e vi dico già che gli incontri saranno ok saranno Aston Birra contro AC Salute che è la mia squadra Squarta Praga Roma quindi Squarta Praga esordirà in questa serie con il suo Rizza e i Blaugrania che andranno a affrontare i raccattati che sono l'Udinese di Federico detto questo ragazzi noi ci vediamo veramente presto anzi metto già a smanettare le formazioni e appunto ragazzi un saluto e un grazie della visione ciao